bellissimo prato è bellissimo se lo dosassimo magari è meglio chiudita qua sono tutte merda qua cazzo fai siamo qua guardate la nostra fantastica natura ragazzi siamo qui siamo all'alto piano notiamo anche un po' di merda ma insomma guardate un po' questa montagna ragazzi io l'anno scorso esattamente ad agosto ci sono andato su in cima a quel monte che si chiama lo cigliar e qua veramente ciglia come ciglia ciglia da la luna sono le 21 di sabato ma guarda lassù vedo la luna dimentirai porta fortuna ma io non spingio non cazzo voglio andare la stasformazione di lupi qua cazzo vai a fare ma che lupi come no ragazzi beh come detto sono le 9 di sera di sabato che giorno è oggi? che giorno è oggi? è sabato 8 luglio è sabato 8 dicembre è sabato ma che giorno è oggi? non so che è sabato ma che giorno è oggi Luca? vabbè il 4 era lunedì martedì? 5 scusate guarda avanti così marcoli 8 lunedì 10 e sabato 11 no no se il 4 era lunedì eh martedì era il 7 no il 5 il 6 martedì lunedì era il 4 eh martedì era il 6 no allora aspetta un attimo dunque chissà è di matematica a 0 allora lunedì secondo te che giorno era? 4 4 non 5 no aspetta fan pensare è nuvoloso o no? non è nuvoloso ma no scusate siamo messi in male qua eh ci sono un po' di nuvole laggiù mi ricordo che questo è lo scigliar lo sciglia? ecco lo sciglia scusa ma scusa ma scusa ma s-c-i-i-s-c-i-l-i-a-r beh possiamo filmare quanto cazzo vogliamo scusate allora questo qua rappresenta una forma bianca cosa sia esattamente? la luna che poi è cosa? non è Marte no scusa è Marte cosa vuoi? non è la luna che cos'è una luna dai? una luna è una palla è una palla bianca siamo praticamente in un vasto in un vasto in un vasto di prato qui si forse partono i i lupi? ma che lupi? i fendi nebbia no i fendi nebbia i fendi nebbia ma che cazzo stai dicendo? i fendi nebbia allora tu allora aspetta un attimo cosa volevi intendere te con fendi nebbia qua in mezzo al prato scusa posso farci questa domanda? perché fendi la nebbia che c'è che va sotto ma cosa cavolo c'entra? i fendi nebbia sono montuti sulla macchina montuti va bene sì questa è la bella casa dove andremo a vivere che bella si può andare lì un attimo? ma certamente ci sono i lupi magari ah lupi mannari occhio a merda meno male che mi hai avvisuto infatti è che è tutta secca ma sì ma cosa filmi la merda delle mucche? oh è l'exame guarda che bel prato voi vi chiedete cosa ci facciamo qui al Renon allora al Renon hanno suonato un gruppo nostro che conosciamo molto bene che si chiamano i Gattamelata perché è pelata pelata sì come Cirio comodori pelati vabbè ma cosa c'entra con il gatto? comunque il gattamelata non si nota con l'albo gatta o gatto? gatta perché così? perché così? e se è gatto? se è gatto non è una gatta sì anche la merda se è gatto è maschile se è una gatta è femminile e quindi il pistillo che ce l'hanno? il pistillo che cazzo è il piste il pistone volevo dire no scorta se spegniamo c'è un po' di luce perché ora mi sa che arriva a buio ma no 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 non si vede niente ma che buio ma magari che c'è il sole guarda lassù c'è il sole cosa vuoi? guarda lassù vedo il sole la luna il sole? faccio occhio a merda lo so eh ci sono dappertutto qua delle delle merde eh sì appunto che cagono tu che immagino cagono bevono e gutano e non fanno cazzo cagono 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 claudio cosa ne pensi te di questo meraviglioso posto daici una risposta e ti do il numero di lucle music si lucle music lucle per che è 333 333333 benvenuti tornati a noi a questo video black by luclepere ma sicuro? no 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 tocca a te ti fidi adesso? no ti fidi? guarda guarda con dio sì caro perché perché volevi toccheggiare questa cosa? toccheggiare? perché? perché cosa? eh sì poi ci siamo ancora un po' in giù sì dai guarda che è una battuta eh seguitemi andiamo andiamo fino a lì fino dove si sono gli alvari sì quasi quasi ma non si può andare come non si può andare? questo posto è accessibile a tutti sì sì io vado indietro allora stavamo dicendo prima dei baccani vero? no allora alle 5 del mattino c'è il gallo che canticchia poi il contadino va giù a mungere le vacche a togliere la merda dalla stagna e poi si va su a leggere la repubblica e dopo va a lavorare e poi mi dice si fa un pisolino e chi è che domani dorme si deve alzare alle 6 e chi è che domani si deve alzare alle 6 e dorme? domani tu tu io sì comunque devi farci riflettere è un cristallino questo è è un cristallino eh guarda sono cristalli sono allora questi sono cristalli ragazzi ho trovato 100 euro qua dentro eh fai un attimo che sto facendo cosa c'è qui? aspetta un attimo c'è un po' di sporco ma 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 aspetta incontriamo l'altra cosa c'è qui sotto cosa c'è? c'è una bellissima c'è una bellissima ragnatiera ma ci sono anche soldi per caso no? no però facciamo da qui ah fermo dove sei fermo 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 dove sei abbiamo trovato un bellissimo ragno che forse dorme un ragno? via via ragno dici si 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 ma che ragno è una mosca che che è andato a finire contro l'aragnatela questo qua scommettiamo che non è un ragno allora toccalo ah giusto toccalo qua è un bellissimo ragno che dorme proprio molto ok basta poi contro contro eccolo qua il ragno bellissimo dormi è proprio bello vero che è bello che bel ragno ragazzi toccalo dai no 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 lascia stare guarda hai paura non è che c'ho paura chiami tu chi mi sono guarda ragazzi siamo non vedo che cazzo non vedo niente ragazzi che luce forte siamo ancora qua che ore sono sono le dieci e mezza e fa un buio pesto fa un buio pesto la genovese e abbiamo bevuto la nostra ete ora facciamo un bel giochino vai dai aspetta 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 minchia come corre guardate ora è più brillante è meno brillante ok andiamo andiamo ma scusa che razza di gioco era alla fine siamo qua da tre ore ah questa luce adesso ho visto che è più buio cantiamo la canzone Heidi va bene ok per esempio no uno due tre Heidi Heidi le caprette ti fanno ciao Heidi Heidi me aspetta aspetta un attimo aspetta eh allora puttana che cazzo fai porca è un macello qui con quella carota lì ma cosa è carota carota o secondo te è una carota e aia è rossita allora aspetta vedete questo allora posti ferma dove sei post italiano che cos'hai comprato niente questo è un regalo dalla radio per una cliente nostra cioè cioè magliette c'è uno ha comprato uno ha vinto e cosa fai devo consegnargli lo io non ci creda tu fai postino per no grandissimo il recente è scritto sigillo anti attenzione perché non lo so perché allora ogni centrativo di manovra oghi pallone cazzo c'è qui dentro ma per di ho visto una carota qua guarda lì 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 allora questa è carota no allora questa è carota no margu no margu no non lo fare non lo fare margu no oddio dai va bene ti faccio contento dai che cazzo dovrei fare cazzo nel mezzo del buio si sta facendo mezzanotte di cazzo siamo fatti come due valordi allora questi due comunque dai se mi giuro la pulizia ci fa il culo ma che mai che serve da pulire un po' fa un po' cagare la coca coca cona light l'arte di generare soluzioni evviva cos'è sta roba